ehi ah 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 Croppold atteso da Dragic, crossover parte a sinistra nonostante il contatto MVP Wright batte Diner, trova Mattianga, sceglie l'assist per Noxa che va a due mani sopra il ferro Sta da Nox, la finta di Cavaliero su Stojanovic, gioco a due con Nox, che va sopra Cromford, capisce che non può schiacciare. Cavaliero a guidare la transizione, altra tripla, altro canestro! 3 su 3! Per dare qualche chance in più alla scuola di Dalmason, Cromford stoppato da Mosley! E sulla transizione ci riprova Diner, che spezza la maledizione dopo 10 errori consecutivi. Il contatto fra Aldridge e Dragic, contropiede per Saunders, comodo con le IAP, più 5 Cremona. Trieste è veramente un problema, blocco di Matianga che chiude il gioco a due, inchiodando il 10 a 0, che costringe Dalmason a fermare la partita col time-out. Blocco di Nox per Chris Wright, alza la Leup, inchiodato dal miglior giocatore di Trieste in questa serata. La scelta è di andare di nuovo da Saunders, tiro in corsa, sopra Matianga. Rizzi contro Dragic, con la mancina, trova una soluzione tutt'altro che facile. Ruzziarra, troppo spazio, concesa un giocatore che è incandescente e ne mette un'altra. Che poi tattico, con Mosley comunque devi fare i conti in qualche modo. Da rossa, bravo, bravissimo, bravissimo. Da una mano da rossa su Ricci spallacanestro, il blocco di contenimento di Ruzziarra è poetico e Crawford ringrazia. Nox, Wright vede il backdoor di Strautins, che in questo momento è gran parte nell'attacco di Trieste. Oh, it's okay, go get some rest, spend some time. Placis, dietro la spalla per Crawford, extra person e tripla di Aldridge. Mamma mia. It's our priority, now security will show you to the door, I'm really sorry. Well, the robots have arrived, so it's time we say goodbye. Oh, no, 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 please don't cry. Grazie. 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 Grazie.